Modalità invernale, riscaldamento più acqua calda. Con questa modalità di riscaldamento otterrete un calore gradevole e dell'acqua calda dai rubinetti. Prima un suggerimento di riscaldamento generale. Nelle vacanze invernali dovreste avviare il riscaldamento al momento della partenza ed arrestarlo solo dopo essere rientrati a casa. A seconda della temperatura impostata, il Dual Top deciderà autonomamente la potenza necessaria, cercando anche di ottimizzare i consumi. Ecco come avviare questa modalità riscaldamento più acqua calda. Accertatevi che la pompa dell'acqua sia accesa. Controllate quindi che nel boiler sia presente dell'acqua. A tale fine, impostate il rubinetto dell'acqua sul caldo ed apritelo fino a che dal tubo esce dell'acqua. Con la manopola di sinistra selezionate la modalità invernale riscaldamento con acqua calda e regolate con la manopola di destra la temperatura interna desiderata nel veicolo da 5 a 35 gradi. L'acqua si riscalda ora a 70 gradi mentre l'abitacolo si riscalda a seconda dell'impostazione. Ma cosa si riscalda prima? L'acqua o l'abitacolo? Il Dual Top riscalda sempre per primo l'abitacolo. Solo quando è stato ottenuto un gradevole tepore la forza riscaldante si concentra sul boiler dell'acqua. A seconda della temperatura esterna e dell'acqua il riscaldamento dell'acqua a 70 gradi può richiedere oltre un'ora. Per vedere come funziona il processo di riscaldamento diamo uno sguardo all'interno del riscaldamento. Nel nucleo riscaldante l'aria viene riscaldata e attraverso il ventilatore giunge nell'abitacolo. Già ora l'acqua nel boiler viene riscaldata attraverso il flusso di aria di riscaldamento. Tuttavia, non appena nell'abitacolo viene raggiunta la temperatura desiderata il ventilatore dell'aria di riscaldamento si arresta e tutta la forza riscaldante riscalda l'acqua nel boiler a 70 gradi. Il Dual Top mantiene automaticamente questo livello di calore e vi consente così di rilassarvi a pieno.